Ci risiamo. Si scrive modernità, si legge repressione. È quanto è accaduto al polo logistico della Pellimacca di Desenzano. Lavoratori che rivendicavano diritti minimi, che da tempo fanno parte del patrimonio culturale di questo paese, sono stati repressi, sono stati usati in maniera strumentale per ribadire ancora una volta che all'interno del job-back renziano non c'è spazio per i diritti, non c'è spazio per le rivendicazioni e chi prova ad alzare la testa non solo viene represso ma perde anche il posto di lavoro. Una volta si diceva che i lavoratori erano brutti, sporchi e cattivi. Oggi devono essere anche servili e malpagati. Questo è lo schema vero del job-back e su questo noi continueremo la nostra battaglia per far sì che le persone ripartano dalla loro dignità e dai loro diritti. Non possiamo indietreggiare neanche un minuto e anche quando gli altri si fermano noi continueremo ad andare avanti. C'è un filo sottile di differenziazione tra la legalità e la legittimità dei provvedimenti. Noi siamo per quest'ultima.